host 2019 ci troviamo lo stand di blu pura la società marchigiana che fa parte del gruppo calligan e che oggi è qui ben rappresentata dalla responsabile marketing debora screpanti debora bentornata grazie fabio è sempre un piacere il piacere è mio soprattutto quando alle nostre spalle anch'io con orgoglio mostro i quattro premi che avete conseguito non più tardi di tre giorni fa che cosa sono sono i premi che abbiamo ricevuto dall'associazione di settore watercourers europe che ci riconoscono sono appunto gli acqua awards che ci premiano per miglior campagna marketing per miglior promozione del rispetto dell'ambiente per miglior promozione dell'idratazione e per la miglior service person quindi la nostra roberta sassetti che si occupa del customer care che ha provveduto un ottimo servizio alla clientela un bel riconoscimento e per voi naturalmente un un punto di orgoglio assolutamente si non erano scontati ci abbiamo lavorato molto e ricevere questi quattro premi su sei è stata una grande soddisfazione siete andati via da berlino con le tasche piene i premi le valigie soprattutto e allora passiamo invece quello che oggi presentate nella 41esima edizione di ost quella 2019 sì questa quest'anno abbiamo una grandissima novità non lanciamo un nuovo prodotto ma un'intera gamma prodotto si chiama blue glass meritevole del premio smart label nominato da gino massari quindi un grande onore anche essere premiati da un esperto del settore che lui è della pasticceria questa linea prodotto si presenta in cinque diverse versioni per la prima volta presentiamo la tecnologia iot quindi information technology integrata nei nostri refrigeratori d'acqua che è presente nella nostra blue glass plus con uno schermo lcd touch screen che ci permette quindi di selezionare l'acqua programmarla cambiare la temperatura metterla in stand by fare la programmazione con il timer e tantissime altre opzioni sia dal sistema da appunto dall'erogatore che da remoto quindi un controllo tecnico per far sì che il nostra la nostra assistenza possa andare lì sul posto in tempo senza che l'operatore sia lì pronto a chiamarci perché si trova in difficoltà che non ha più la nere carbonica per fare l'acqua gassata questo in tutte le versioni oppure ce n'è qualcuna che ha dei plus questa è nella versione più avanzata poi abbiamo delle versioni un po più semplici per chi non vuole troppa tecnologia ma bisogna sempre di performance e soprattutto di un design elegante e con materiali nobili quali il vetro tremprato di colore blu che abbiamo utilizzato in questa occasione e l'acciaio inox abbiamo la versione con pulsanti in acciaio inox illuminati oppure la classica versione birtap perché è l'amante dello spillatore che non vuole passare a questo altro tipo di tecnologie e questi tre versioni hanno una capacità di 80 litri ora funzionanti con il banco di ghiaccio poi andiamo sulla versione da 30 litri ora per l'ufficio e i piccoli bar o comunque sia bed and breakfast sempre di notevole design da che funziona però con il dry cooling e l'altra versione invece che è la rubinetteria elettronica questa per la prima volta tutta l'elettronica è integrata all'interno di questo rubinetto che è molto snello due erogazioni in contemporanea e collegabili a qualsiasi tipo di sottobanco quindi possono fare l'upgrade della rubinetteria che già hanno meccanica a dare un notevole supporto alla ristorazione con riducendo al massimo i tempi di servizio con la porzionatura volumetrica e con tutto questo blu pura si continua ad affermare la propria leadership nel service per non solo il settore orecca ma anche tutto ciò che è service per l'acqua ad esempio le famose case dell'acqua in cui siete particolarmente ferrati assolutamente siamo stati anche premiati per queste case dell'acqua appunto agli acqua awards con la best promotion of health and hydration grazie all'installazione di una fontana dell'acqua presso lo zoo di londra e queste case dell'acqua sono ben affermate in italia ma stanno esplodendo in tutto il mondo l'inghilterra è uno di quei paesi che oggi sta facendo una grandissima domanda ma anche tutti gli altri paesi europei si stanno muovendo in questa direzione soprattutto a seguito delle iniziative plastic free che stanno esplodendo ovunque e allora per chiunque desideri maggiori informazioni rispetto ai vostri prodotti qual è l'indirizzo di posta elettronica da poter comunicare info chiocciola blupura.com o comunque sia accedete alla pagina www.bluepura.com e troverete tutta la nostra offerta le nostre facce nella pagina contatti quindi sapete chi contattare in base alle vostre esigenze e niente vi aspettiamo grazie pluripremiata debora ci rivediamo alla prossima fiera alla prossima ciao a tutti grazie a tutti